Io ho avuto la possibilità di incontrare Ursula von der Leyen nel maggio scorso per un evento privato europeo e devo dire che pur mascherata e comunque parlando a una certa distanza perché ci sono delle misure di sicurezza fortissime nella Commissione europea ho visto una donna molto determinata, molto europeista, convintamente e sinceramente europeista Che però non si nasconde le difficoltà Però che lo sia una tedesca di una certa generazione, cioè lei ha poco più di 60 anni, ha sei figli qualche anno fa quando ci fu l'emergenza dei migranti siriani ha accolto un giovane siriano a casa sua come se fosse un figlio quindi erano diventati sette, è un personaggio straordinario di cui si parla poco Lei ci crede e che ci sia un Presidente di Commissione europea che sia convintamente europeista e che sia donna, che sia tedesco è importantissimo E poi d'altronde tutto è complicato, 80 anni fa scrissero il manifesto di Ventotene al confino fascista e siamo qua con l'Unione Europea e quindi questo parallelo tra manifesto e Bebevio che sfida l'impossibile e lo batte è centrato, non è retorica Voglio chiedere una cosa a Quagliariello perché sulla pandemia